Grazie alla glicemia! Un bel biscottone, ve l'ho un regolato? No, troppo zucchero! Un bastone di zucchero? No, ti fa ingrassare! Eh bello, allora io che cosa mangio? Un cavolo! Un cavolo anche vegano mi è diventata un cavolo con tutto sto... Ma sto cavolo è di marzapane! Eh certo, ma cosa credevi? Qui è tutto di marzapane! Allora mi mangio il cavolo! Buono burro! Hansel e Gretel! Hansel e Gretel! Attenuto, padre! Su, falla a vedere alla mamma! Pronta per Hansel e Gretel! Oh, le prime specchiate! Ma non intendevo questo tipo di specchiate! La prima pentolaccia! Con la prima figuraccia! Pronto per sferrare il super pugno? Ma no! Ti ha colpito lui! E ti ha messo pure al tappeto! Che carine sul dondolo! Attenti al fratellino, eh! Talmente attente o che l'hanno presa in pieno! Non esitate a mandarci i vostri esilaranti home video! Ne siamo ghiotti!